ciao mario come stai bene bene tu bene 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 grazie oggi 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 mi hai fatto scoprire un articolo dell'economist che riguarda l'esplorazione lunare dal titolo there is now cast iron evidence for water on the moon e inizierei a chiederti la storia di come hanno scoperto l'acqua sulla luna e se potessi parlarmi della sonda cassini che è stata inviata nel 99 finalmente c'entra l'italia anche se in questo articolo l'economist non la cita la sonda cassini è il risultato della collaborazione tra nasa che viene citato all'economist ma anche dell'agenzia spaziale italiana e dell'agenzia spaziale europea la sonda cassini nominata in onore di un astronomo italiano che aveva scoperto nel seicento che saturno aveva due anelli vari anelli non non solamente uno era stata inviata verso saturno appunto per per studiare il pianeta e passando a fianco la luna aveva analizzato la luce riflessa dalla luna aveva scoperto che sicuramente sulla luna c'erano delle molecole o di acqua o di qualcosa simile all'acqua quindi l'acqua è formata da un atomo di ossigeno e due di idrogeno h2o sicuramente c'era o h2o oppure c'era qualcosa che aveva un o h un atomo di ossigeno e un atomo di idrogeno andando avanti nell'articolo parlano di un esperimento fatto appunto sempre dalla nasa in cui hanno modificato un boeing 747 di modo tale che potesse volare un altitudine più elevata credo 13 chilometri esatto quindi c'è questo esperimento questa volta tutto della nasa in cui hanno messo un telescopio di due chilometri e due metri e mezzo su un boeing 747 che vola molto alto e che studia le radiazioni emesse dai buchi neri ok la genialità in questo caso della direttrice dell'esperimento è stato è stata quella di rivolgere il telescopio non verso buchi neri ma verso la luna essendo il telescopio molto preciso ha provato definitivamente che la sostanza che c'è sulla luna è acqua e non qualcosa di simile all'acqua sulla luna in che maniera si si trova l'acqua in che maniera si presenta l'acqua in realtà non si sa ancora quindi è molto probabile che sia un siano delle molecole d'acqua incastrate nella nella roccia lunare ma c'è anche l'idea che in realtà ci siano delle specie di ci sia della ghiaia di ghiaccio sulla luna dei granelli di ghiaccio ed è questa poi in realtà l'ipotesi difesa dalla direttrice del dell'esperimento di qui sopra e l'origine dell'acqua sulla luna cioè come si forma altro questa è la cosa più interessata adesso io da ignorante in realtà pensavo che l'acqua sulla luna potesse esserci perché la luna fa parte della terra la luna si è formata perché la terra è stata colpita da un asteroide qualche miliardo anni fa in maniera molto violenta e una parte della terra si è staccata e ha formato la luna quindi pensavo che l'acqua sulla luna fosse l'acqua terrestre e invece quello che è stato scoperto che l'acqua sulla luna continua a generarsi praticamente dal sole arrivano i protoni il vento solare formato da protoni i protoni sono anche il nucleo dell'atomo di idrogeno un atomo di idrogeno è fatto da un protone e da un elettrone che ci gira attorno quindi i protoni arrivando sulla superficie lunare vengono incastrati nella roccia e formano delle molecole con gli altri atomi presenti nella roccia tra cui l'ossigeno e per questo motivo che si formano delle molecole con OH quello che accade è che poi ogni tanto sulla luna ci arrivano delle meteoriti una viene bombardata perciò è piena di crateri e in questo calderone si forma dell'acqua vera e propria quindi l'acqua sulla luna continua a generarsi quindi adesso che sappiamo che c'è acqua sulla luna che non sappiamo ancora esattamente in che maniera si presenta però c'è qual è la utilità di questa scoperta per l'economist giustamente l'utilità può essere quella di creare delle basi lunari finalmente con l'acqua perché non potremmo avere delle basi lunari con l'acqua non potremmo portarcela su dalla terra c'è un grande problema che se facciamo una base sulla luna dobbiamo sia avere dell'acqua però dobbiamo anche avere dell'energia per avere energia dobbiamo stare al sole quindi se stiamo al sole siamo in regioni dove l'acqua evapora e non c'è però abbiamo l'energia solare se stiamo all'ombra è vero abbiamo l'acqua ma non abbiamo il sole per cui non possiamo estrarre energia dal sole e tra l'altro all'ombra sulla luna ci sono 160 gradi sotto zero quindi fa abbastanza freddo quindi invece l'utilità è squisitamente scientifica sempre di più la terra sta perdendo la sua unicità cioè pensavamo alla terra come questo pianeta azzurro pieno d'acqua scopriamo che l'acqua è presente sulla luna e continua a rigenerarsi sulla luna pensavamo che sulla terra ci fossero dei meccanismi delle reazioni chimiche che noi crediamo miracolosa la vita è solamente due settimane fa è stato scoperto che su venere c'è la fosfina molto molto probabilmente su venere c'è stato o c'è una forma di vita sia pure molto semplice per quanto ne sappiamo la fosfina può essere prodotta solamente da da una forma di vita ancora più interessante sarà tra tre anni quando una sonda che ha estratto un campione di materiale da un meteorite arriverà sulla terra ci permetterà di studiarla quindi il vero passo in avanti è quello di farci perdere il sempre di più la nostra posizione al centro dell'universo al centro del sistema solare stiamo diventando sempre meno sempre meno unici